Ciao! Finalmente rieccoci a una nuova puntata di Italiano in 5 minuti! Sapete la differenza tra finalmente e alla fine? Aspetta... e infine cosa vuol dire? Io sono Susanna, insegnante di italiano per studenti stranieri e fondatrice di Arcos Academy. Arcos Academy è una scuola online di italiano per stranieri che con video, podcast, corsi, canzoni, guide e libri vi può aiutare a migliorare il vostro italiano. Link in descrizione! Affrontiamo l'argomento di oggi. Qual è la differenza tra infine, alla fine e finalmente? Tre parole che presentano una componente in comune. Fine. Tre parole che presentano una componente in comune. Fine. Quando usiamo finalmente? E le altre due espressioni? Prima di spiegarvelo vi chiedo di iscrivervi al mio canale e di attivare le notifiche, in modo da non perdervi nessun nuovo contenuto. Finalmente. Partiamo da un false friend. Finally non è l'equivalente esatto di finalmente. Mi spiego meglio. Se finalmente indica qualcosa o qualcuno che arriva da ultimo alla fine, allora possiamo tradurlo con finally. Tuttavia questa accezione non è comune. Nel secondo caso, che è invece largamente diffuso, finalmente è la traduzione di at last. Finalmente. È da un'ora che ti aspetto. Come potete notare, finalmente esprime il sollievo, la soddisfazione che qualcosa è capitato. Alla fine. Alla fine esprime conclusione. Indica qualcosa che viene compiuta come ultima cosa. Può essere seguito da un sostantivo e, in questo caso, dobbiamo aggiungere la preposizione di. Andiamo a mangiare qualcosa alla fine della riunione? Alla fine può anche essere utilizzato da solo, decidendo di non riferirsi a nessun avvenimento in particolare. Oh, alla fine come sta andando il lavoro? Beh, non male dai. Da quando quel mio collega chiacchierone se n'è andato, riesco a concentrarmi meglio sul lavoro. Infine. È probabile che, cercando nei dizionari bilingui, voi troviate infine segnalato come sinonimo di alla fine. Sì, anche infine dà un'idea di conclusione, ma è legato a una sequenza di eventi, a una lista di attività. Prendete l'impasto, lavoratelo con le mani, stendetelo con un mattarello e infine adagiatelo all'interno della pirofila. Ora tocca a voi! Scrivete nei commenti una frase che contenga almeno una di queste tre parole. Infine, alla fine, finalmente. Vi è più chiara la differenza? Se il video vi è piaciuto e volete lasciare un like, sappiate che io lo apprezzo molto. Fatemi sapere nei commenti quali altre parole italiane vi creano dubbi o confusione. Io sono Susanna e vi ringrazio di avermi fatto compagnia. Ehi, vi do appuntamento al prossimo video! Ehi, vi do appuntamento al prossimo video!